Vivi l'emozione di un grande impero, dove la storia inizia un attimo prima che il sole sorga. Attraversa il tempo e difendi i tuoi confini, solo così sarai un vero legionario. Tratto dal romanzo capolavoro di Gordon Doherty, dal regista di Ritorno all'Inferno, Simon Brown, con Paul Walker ed Ellen Miller. La Universal Studio Pictures presenta una vittoria per l'impero. A marzo, nei cinema. DS7 Crossback e Auto Europa 2019. Assicura il massimo del comfort. Vede ciò che gli altri non possono vedere. Sorprende con la guida autonoma di secondo livello. Vieni a provare il nuovo motore Blue HD 130 con cambio automatico. DS7 Crossback. Dall'audacia. Nasce l'eccellenza. Anche sabato 26 e domenica 27 gennaio. Code41 è molto più che un semplice marchio. È un movimento. L'orologeria misura Duomo. Abbiamo reinventato l'orologeria meccanica di alta qualità e l'abbiamo trasformata in un'avventura straordinaria a cui potete partecipare anche voi. Senza intermediari. Siete al centro dell'avventura insieme a noi. Immagina se potessi ricostruire il mondo. Ti fai strada nella giungla. Finché non ti imbatti in una partita di calcio. Elefanti contro panda. Ma aspetta. La giungla è... sott'acqua. Allora avrai bisogno di un sottomarino e anche di un equipaggiamento guidato da Capitan T-Rex, naturalmente. Aperto. Ricordi di aver provato quella sensazione per la prima volta. Il primo giorno in cui hai aperto. Il primo giorno in cui hai avuto un cliente. Il primo giorno in cui hai insegnato una lezione. Hai avuto un cliente, un paziente, una sessione. Aperto. Ricordi la sera prima. Chi potrebbe mai dormire? Aperto. Ma c'è una domanda diversa che viene posta ora. Rimarrai aperto anche quando le tue porte sono chiuse. Aperto. È così che mostriamo chi siamo. C'è un altro modo per essere aperti. Per mettere insieme o spingere a seconda della porta. E lo stiamo facendo funzionare. E continueremo a farlo funzionare insieme. Perché, aperto, siamo in piedi. Cosa stai facendo? Quello che fanno tutte le persone per non avere un corpo a forma di pera. Ma tu sei un kiwi zesprile. Quindi sono a forma di mela. No, sei già in forma perché sei delizioso. E anche ricco di vitamina C. Fantastico, lo vado a dire a tutti. No, rendi il tuo corpo irresistibile. Zesprile. La musica del compositore e pianista di fama mondiale Steve Barakat è ora su Spotify. Vivi l'emozione di un grande impero dove la storia inizia un attimo...